Fratello, sorella, non lo dimentichiamo mai. Dio è il Signore. Egli è il controllo di ogni situazione. Egli sa quello che sta facendo. Egli sa quello che ci sta accadendo. Egli sa quanto è dura la battaglia che stiamo sostenendo. Egli sa ogni cosa. È Lui che ha il potere.